Tommaso, ce l'abbiamo fatta, parteciperemo alle Olimpiadi di Londra. Papà, io voglio fargli frate. Non si farà frate. Perché? Perché deve fare le Olimpiadi. Ave Maria. Io penso che sia sempre più importante trovare nuove forme di comunicazione. Paulini no! C'è anche blues, pop, rap. Paulini smetta! Ho vinto tante di quelle medali, ma la più importante non l'ho mai nemmeno sfiorata. Nell'Olimpiadi sei davanti all'idea del secolo. La Nazionale Olimpica del Vaticano. Non mai così vai a Lourdes. È il grandissimo campione Mario Guarrazzi che sarà il responsabile tecnico. Saremmo un'esperienza mediatica straordinaria. Quanti anni ha lei? 45, perché? Lo faccio un po' di sport. Per forza così aderente? Ma come? Ho preso la XXL. Ma riportarci l'ostra, ma chi cazzo è? Noi andremo ad Olimpiadi a qualunque costo. Bravo, grande, paga, io non ho mai per culo. Eminenza, tecnica motivazionale. Occorre mettere insieme una decina di atleti. Ci sono! Soltanto che sono sparsi un po' per il mondo. Quello è Frate Thorvald, la nostra ambulanza. Lo buttamoselo dietro. Ma che gli togliamo l'ambulanza? Ma che te sei drogato? Siamo in Columbia, basta l'aria. Per arrivare al cuore degli uomini bisogna attraversare strade impervie ed impensate. Sampai che dentro di tutto non mi spartanire Questa è la nostra ambulanza. Per arrivare al cuore degli uomini Per lievasciare il mondo.